Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti, un nuovo video tag, questa volta un nuovo video tag, come vi avevo promesso finalmente, un nuovo video tag. Questa volta però un pezzo, un video ASMR, un pezzo è in voce versione più alta, perché se non va bene, e non è che mi fa tanto impazzire, farò troppo un ASMR. Allora, dunque, 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 aspetta un attimo solo. Siccome che questo video mi ha taggata, non so quante persone, questo video mi ha taggato, anzi, nel video che sto dicendo io, c'è stata taggata a skin care, sia una brava skin careologa, creata dalla bambina mai cresciuta, ovvero Veronica. Allora, le domande sono 11 per taggare qualcuno, ma io taggo, sì, sono 10 domande più 11 per il tag, niente, dunque, partiamo. Sì, sai che tipo di pelle hai? Sì, pelle molto secca, misto secca, pelle misto secca, poi, adesso, prima no, ma adesso sì. No, me li possono, così. Poi, seconda domanda. Da quanto tempo fai la skin care? Ehi, raga, da tanto tempo. Poi, quante volte fai la skin care? Quante volte a settimana fai skin care? Eeeh, sempre, tutti i giorni, ragazzi, non è che faccio l'uno o l'altro, sì, sempre. A parte le maschere, che è colpa di questo coso che ho qui, non posso farla perché mi dà un fastidio tremendo fare la maschera in tessuto. Quarta domanda. Qual è il passaggio a skin care che fai di più, che fai più spesso, più frequentemente? Scusate, mi stavo impapinando. Eeeh, la prima tutta detersione. Poi, detersione il viso con un latte detergente, micellare, quello che basta che mi lavo. Poi, basta che mi detergo, infatti. Poi, qual è il prodotto skin care che usi meno? Allora, devo dire la verità, il tonico e le maschere. Perché il tonico lo passo o non lo passo, dipende. Poi, qual è il prodotto skin care di cui credi di avere più bisogno ma usi raramente? Appunto, le maschere o il tonico. Le maschere o il tonico. Poi, 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 poi. Ti strucchi sempre prima di andare a dormire? O come? No, scusate. Ti strucchi prima di andare a dormire? Se non mi strucco io che si deve struccare, sempre mi strucco, sempre. Sono rare le volte in cui lascio perdere di struccarmi. Però, se devo farlo, lo faccio sempre struccarmi. Poi. Scusate, un attimo. Ottava domanda. No, sett... No, ottava domanda, sì. Come ti strucchi? Come ti strucchi, scusate? Mi strucco prima con la quella di micellare di Garnier, che è il top, quella con la tapporosa. Ed è fantastica, non brucia più di tanto. Quasi per niente. A meno che non te la fighi nell'occhio, però vabbè. Niente. Poi, passo di latte detergente, quello a tipo serie A90. Della serie A90. Ok, poi, latte detergente è da anni A90, però vabbè. Poi, vado di... Appunto, olio, latte detergente, acqua micellare e poi la crema e... E basta, perché il tonico lo vai passo a volte e non lo metto per niente. Poi? Qual è il prodotto skin care preferito in assoluto? Il latte detergente o l'acqua micellare, a seconda di cosa mi va più a me? Quale è il tuo prodotto skin care preferito in assoluto che compreresti all'infinito? Il latte detergente o l'acqua micellare? A seconda di cosa mi va a me? Ma di più l'acqua micellare perché mi toglie tutto il grigioro della pelle che ho, ovviamente. Poi? Poi, se ho una prova skin careologa, che voti dai a uno a dieci? Sì, sono una prova skin careologa, non troppo, ma riesco ad essere una prova skin careologa adesso di questo periodo. Che voto posso dare? Otto. Dai, otto o nove, dipende. Otto, perché devo ancora imparare a fare tanta skin care e fatta correttamente, perché sento che sto sbagliando qualcosa e vorrei cominciare a prendermi cura seriamente di me. Sì, mi lavo, di detergente, bla, 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 però voglio imparare di più a essere corretta nella mia skin care, tutto lì. Poi, taggo qualcuno. Io taggo Steffi, il canale della pirottina, e Lady Podcast, altro nessuno. Allora, vabbè, poi ne taggerò altre. E se vogliono essere taggate, se no, le taggo lo stesso. Non sono, non sono, come si dice, non sono... Vabbè, non siete obbligate a farlo. Se volete lo fate, se no, amen, pazienza. Niente, io taggo tutte, e nelle box informazioni vi metto tutte, link, e anche del tag, così potete farlo anche voi. Va bene? Niente, ciao, a presto, un bacio. Ciao, 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 ciao. Buon tag a tutti, buona visione. Buon tag a tutti, buon tag a tutti, buon tag a tutti, buon tag a tutti.